Oh sì, la macchina ci vuole proprio! Ce la facciamo a salire in due! Aspettami! Oh mamma mia! Aspettami! Aiuto! Fermati! Aiuto! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki! Sì, sono Stef! E che seggio che è Maravlo! E siamo tornati con un escape! Questa volta però dovremmo scappare da una metropolitana! E non solo! Se leggi questi bei ragazzotti qua, praticamente c'è un'invasione dei zombie qui sotto! E quindi non vogliono aprire le porte perché non vogliono che l'infezione si diraghi per tutta la città! Non me ne ero accorta di questo particolare! Non me ne ero minimamente accorta e fantastico! Io amo gli zombie! Non in senso buono, però mi piace l'ambientazione! Ok! Quindi sono felicissima di scappare dagli zombie! Andiamo! Andiamo! Guarda, vedo... Oh mio Dio! Uh! Le scale sono mobili! Ah, ecco! Ok, vabbè! Iniziamo? Sì! Andiamo! Assolutamente! Mi sento come se fossi su Walking Dead! Sono emozionatissima e tu sei già morto! Ma non mi puoi abbandonare così! Cioè, ma ti sembra che se ci fosse un'invasione zombie tu mi abbandoni dopo i primi due minuti! Non è possibile! Non è possibile! Sono entrato troppo sugli zombie e non sul suo altare! Sì, vedi? Non possiamo passare, quindi credo che dobbiamo andare da qui, da quel poliziotto che ha sparato lo zombie! Ah, ok! Ecco! E passare dai condotti dell'aria! Così, so che la stiamo disturbando, però dovremmo scappare! Vai! Ma guarda la sua faccia! È molto spaventato, sì! Molto triste! Beh, tu staresti felice se ci fossero degli zombie! Ma secondo me è proprio triste di aver ucciso questo povero zombie, capito? Vabbè, gli giorni però vanno fatti fuori, non è che vuoi essere contagiato, insomma! Sai com'è! Stia calmo zombie! Tutto a posto! Tutto a posto! Ok! Che cosa sono questi? Dei cavi elettrici? Di sicuro non li voglio toccare! Non so tu! No! Magari tu vuoi provare! No, grazie! No, grazie! Ho cercato di spingerti! Ho cercato di spingerti! Allora, allora vieni qua! Dimmi! E affrontami faccia a faccia! Non spingendomi alle spalle senza che io me ne accorghi! Ti sto schiacciando! Ti uccido! Guarda che ti faccio trasformare in uno zombie! Non mi sfidare! Non mi sfidare! Non ci credo! Guarda adesso! Se caschiamo di sotto ci sono gli zombie che ci inseguono! Posso provare a buttarti! Perché vorrei vedere la fine che fai se cadi di sotto! Dai, a chi cade prima! Ok, ok! Vediamo chi cade! Sono uno zombie! Sono proprio cascata come una pera comunque! Però ti mangiano! Ti posso assicurare che ti mangiano! Ho visto dall'alto ciò che succede! Quindi non cadere! Non cadere! Qua secondo me conviene sempre andare nella parte un po' più ravvicinata perché... Oh mamma mia! No! No! È fantastico! Sono proprio pronti ad acchiapparti, capito? Sì, 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 sì! Non ti lasciano scappare! Non ti lasciano scappare! Non ti lasciati brutti zombie, guarda! Siete soltanto maleducati! Ah, ok! Pensavo avessimo cosa dietro! Oh no! Oh! Oh mamma mia! Oh! Lo stanno mangiando! Eh, già! Eh! Scendiamo, scendiamo! Ah, dobbiamo scendere, ok! Dobbiamo saltare tra le parti del corpo di questo povero personaggio di Roblox! Non dovremmo ridere! Perché se tocchiamo terra ci facciamo male! Vabbè! Non dovremmo ridere! Vabbè che lui si è sacrificato per noi! Eh certo! Infatti stiamo sfruttando... Come puoi non ridere a questa faccia? Appunto! Boh! Spiegami! Ecco qua, lo sapevo! La gamba era troppo fine! Doveva essere un po' più muscoloso, scusa! Almeno renditi utile! Eh, ma poverino! Eh, ma renditi utile, scusami! Ma dai, ci si è sacrificato per noi e lo critichi pure! Sì, molto, molto, esatto! Dobbiamo entrare nel treno adesso! Vieni, vieni, vieni! Ma non ci vorrei entrare io! Eh, perché i treni, sai, nei film horror, nei film di zombie non portano mai nulla di buono! Eh, lo so, lo so! Infatti... Sai com'è preferirei stare nella larga? Ecco! Ecco qua! Ecco qua! Ecco, ecco! Lo sapevo che andava a finire così! Era già nell'aria questa mia morte! È parecchio difficile! Perché praticamente quando salti sbatti la testa nel treno! Esatto! No, non mi buttare giù! Guest, stai fermo! Cosa sta facendo? Guest, stai fermo! Allora, io mi sposto così tu te ne vai! E ognuno per la sua strada! Ognuno per la sua strada! No, perché i guest sono sempre quelli che ti fanno cascare! Lo so! Quindi bisogna fare molta... Aiuto! Ma no, ma dai! Ma come hai fatto a fare quel salto? Bravura! Come si... Ma che cosa bravura? La mia esperienza in tutti gli escape che ci sono stati! Ma stai imbrogliando in qualche modo strano! Ormai sono un pro degli escape! Ma dai! Non riesco a farlo a questo livello! Non è possibile! Sai che ti lascio qua nella metro, che dici? No, no, no! Aspettami, dai! E vabbè, scusa, in un'invasione zombie... Cioè, sai com'è? Non è che voglio essere sbranata dallo zombie! E lo so! Ma in questi momenti bisogna lavorare di squadra, capisci? No! No! Aiuto! Ok! Dai, ce l'hai fatta! Bravissimo! Andiamo, 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 andiamo! Vedi questa cosa qua? Sì, è un braccio! Di uno zombie gigante! Wow! Pure? Sì, credo che stiamo per andare a incontrarlo! Passiamo dalle scale e vediamo cosa succede! Sì, vabbè, anche le scale non ti fanno fuori in pace! Già le scale sono fatti cose di suo! Se poi devi pure schivare cose... Diventa una tortura vera e propria! Sì, esatto! Esatto! Visto che hai detto tutti per sé, adesso ti abbandono! Arrivederlo! Che c'è lo zombie gigante, sei matto! Ebbè, nel caso quello lo incontro per primo, allora... Mamma mia! Eh, vabbè... Sono proprio arrabbiati questi zombie! Eh sì, eh sì! Oh! Non ci credo! Vieni, 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 vieni! Dove? Dove sei? Guarda che figo! No, no, in discesa no, però! Aiuto! Aiuto! Io già faccio schifo questi salti figurati in discesa! Aspetta! Andata, andata! Eccolo! Lo zombie gigante! Eccolo! E guardalo, sì, sì, sì! Mamma mia, che brutto che sei però! Amico mio, ti potevano fare un po' più bellino! Dobbiamo saltare nel suo occhio! Che schifo, guarda! Ma dobbiamo andare lì? Ma a me fa un po' schifo! No! Uh! Volevo fare piano piano, e invece, boom, come una saetta! Capito? Mi ha presa la sprovvista! Ma a te che succede? Sono rimasta lì! Non so perché, sì! Per sempre! Prova a camminare un po' in avanti, indietro! Non lo so! Non mi ha mangiato! Questi salti sono molto fini e anche abbastanza distanti tra loro! Quindi, sinceramente, ho un po' di paura! Aiuto! Ok! Aiuto! Ultima! Opla! Andata, 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 andata! No! No! Questi non li sopporto! No! Ora c'è da divertirsi! Eh, allora! 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 Aspetta, aspetta, aspetta! Io ormai sono diventato un esperto! Cosa stai cercando di fare? Tranquilla! Una tattica segreta bellissima! Vediamo! Ok! Qua sono passato in mezzo! Questo è totalmente finto! E questo è totalmente finto! Quindi questo è quello giusto! Easy! Uè! Ha funzionato! Io non so se l'ho fatto nel modo giusto! Allora! Comunque sto anche notando una cosa! Qui è finto! Aspetta, aspetta, aspetta! Sì? Quelli finti sono più chiari! Hai notato? No, no! È un inganno ottico! Guarda! Ho trovato il modo! Ho trovato il modo! Tranquilla! Vabbè! Mi fido e seguo! Se la telecamera passa troppo in mezzo... Ok! Quindi teoricamente è questo! Sì! Vabbè! Vabbè! E poi l'ultimo a casaccio sarà centrale! Purtroppo no! Ora non mi ricordo neanche quali erano! Eh! Non lo so! Sinistra, destra, sinistra e l'ultimo non è centrale! Io non ho ancora capito come hai fatto! Guarda sto parkour! Ci ha guardato in alto! È una bella scalatona! È una bella scalatona! Direi proprio di sì! Arrivo! Andiamo, andiamo! Aspetta! No, di... Allora, piano! Piano! Sì? Perché se no qua ci spingiamo di sotto! Devi fare piano! Ok! È molto strano! Devi un po' girare... Noi dobbiamo andare dritti! Eh, credo quest'altone! Non mi spingere! Non mi spingere! Mamma mia, ma questo si fa... Giusto, giusto! Ok! Ce l'hai fatta? Sì! Ma sono diventati degli zombie Spider-Man! Ti vedi? Sì! Mamma mia, ragazzi! Avete acquisito nuovi poteri! Di chi è questo zainetto? Uno zainetto Nerf! Prendiamocelo! Magari dentro c'è qualche cosa di utile, tipo dei medicinali! O dei cibo! Ho visto che il signor maialino è malato! Ma non è vero! Siamo fuori? Sta benissimo! Siamo fuori? Siamo fuori? Mmm... Ok! Mmm... Prendi questa macchina! Oh, sì! Oh, sì! La macchina ci vuole proprio! Ce la facciamo a salire in due! Aspettami! Oh, mamma mia! Aspettami! Aiuto! Verbati! Aiuto! Non fa salire in due! Guest, per favore, vada! No, devi fare... L'hai fatto comparire un'altra macchina sopra! Aspetta! Oh, mamma mia! Aspetta, come mi muovo? Eh... Ti aspetto, vai! Aspetta! Ok! Aiuto! 3, 2, 1, vai! Vai! Uh! Aiuto! Ma io sto rotolando! Cioè, ma scherzi? Non aspetti, senza da timore! La spingo, la spingo! Guest, è un po' confuso! Devi andare dritto! Dritto! Non indietro! Dritto! Vada, vada! Prima marcia, non retromarcia! Aia! La smetta, per favore! Eh, vabbè, forse l'invasione zombie, capito? L'ha un po' confuso, è uscito un po' traumatizzato! Eh, ma... Un po' molto! E gli faccio comparire una macchina addosso, così magari... Vada, Guest! Guest! Vediamo che fine fa! Eh, io credo che non abbia fatto una buona fine! No, niente di buono! Io ci provo, eh, guardami! Vai! Ti guardo, vai! Vai! Geronimo! 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 È fantastica! No! No! No 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 é impossibile È impossibile Dopo che finisci le tre rampe Arrivi in una strada con gli zombie da scrivere a sinistra e a destra Sì vabbè non lo finiremo mai guarda Non lo finiremo mai É impossibile È impossibile La salvezza è mia Finalmente Allora io sto concentratissima Perché sto cercando No 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 Non hai capito Che ti succede Ci sono di nuovo loro Cioè non abbiamo finito No, guarda cosa c'è di nuovo No! Le stesse casette della scorsa volta Non mi piacciono quelle casette Alcuni consolini hanno detto che c'è un modo di entrarci Quindi mentre tu finisci il livello Dato che stavi aspettando che ci riuscissi io Prova a vedere se trovo un modo di entrarci Ok, prova, prova Vediamo se c'è davvero il modo Perché i consolini hanno detto che comunque fa E io non so Arrivo! Sei vero? Ce l'hai fatta? Sì, pam! Mi sono spiantata sulla casa Oh mamma mia che fatica Io sto cercando una via per entrare nelle casette Però non mi sembra che ci sia Hanno detto dal soffitto Quindi se non trovi un'entrata dal soffitto Probabilmente non c'è Perché ci dicevano di stare sul soffitto e si può entrare Poi non so se magari stavano facendo i burloni Quindi non è vero Siccome fanno spesso i burloni con noi Ci prendono in giro nei commenti Secondo me anche questa volta Capisci? Non è proprio così Però io ho notato una cosa Dimmi Ok Sì Sali su con il pat Ah non l'ho preso aspetta Ok Questo cammino Vedi che così è vuoto senza nulla Sì Quel cammino invece ha la finestra Questo qui Ok Vedi che qua c'è la finestra con la luce Sì E qualcosa vorrà dire Secondo me nulla No Cioè è l'unico che ha la finestra E magari un caso No non puoi farle diverse Chiaramente qua c'è un messaggio nascosto Ma non è vero No non c'è nulla Dai non riusciamo a entrare Abbiamo provato anche dal tetto Ma i consigli ne hanno scritto che se entri ci sono un sacco di cose bellissime Io ci speravo davvero Non lo so Non lo so come ci può fare Però la parte di macchina è stata davvero fantastica Sì Ma tutto il livello A livello di ambientazione Di livelli Molto molto carino Davvero fantastici Stanno migliorando un sacco nel creare gli escape Sì assolutamente Stanno diventando molto molto divertenti a giocare Mentre i taikune non ne stanno sviluppando molti nuovi Esatto Con gli escape continuano a farne tantissimi E a farli sempre molto variegati E quindi è fantastico E per di più Mi ho trovato uno dedicato a Capitan Jeff Perché c'è l'isola del tesoro dei pirati Davvero E da quello che ho capito è proprio una vera e propria caccia al tesoro E allo stesso tempo un escape E secondo me sarà fantastico Ma è fantastico amo le caccia al tesoro Lo so Bellissimo Comunque ragazzi ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Nel caso lasciateci tanti like Se fateci sapere nei commenti E ci fermiamo così Spero che si riesce così Lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao